Ok, allora riprendiamo l'argomento che abbiamo iniziato a accennare la settimana scorsa sugli insiemi, facciamo un paio di esercizi per familiarizzarci e poi passiamo all'argomento successivo che è quello dei dizionari che conclude di fatto gli argomenti del corso perché poi da adesso in avanti si tratta semplicemente poi di mettere insieme i pezzi che conosciamo in modi diversi. Ad esempio cosa possono servire gli insiemi che abbiamo visto la volta scorsa e qualcuno già ieri in laboratorio ha già cominciato a fare qualche esercizio in cui venivano utilizzati. Ad esempio questo esercizio qua ci chiede di determinare il numero di parole univoche distinte tra di loro che sono presenti in un documento di testo, quindi quante parole diverse hai usato nello scrivere il tema, hai una proprietà lessicale di 40 parole oppure di 2000. Questo è un esercizio che in realtà possiamo già risolvere con le liste perché noi possiamo mettere tutte le parole di un testo, sappiamo che non è semplicissimo prendere un testo e separarlo in parole perché devi prendere le righe, poi in ogni riga separare parole togli la punteggiatura, gli spassi, vabbè l'abbiamo già fatto 100 volte. E poi puoi mettere le parole che sono stringhe all'interno di una lista ma facendo attenzione che in questa lista non ci debbono finire dei duplicati. E quindi dal punto di vista algoritmico devo verificare ogni volta che sto per aggiungere una parola che già non ci sia all'interno della lista stessa. Cioè io farei una cosa di questo genere, no? Se la parola che ho appena isolato all'interno del mio testo non è ancora nella lista di parole, item list, allora l'aggiungo, aggiungo la parola con un append alla lista di parole. Questo è il modo con cui avremmo risolto questo esercizio usando le liste, dove abbiamo questo if che chiaramente ci protegge dal fatto che non vogliamo inserire degli elementi duplicati dentro una lista. Ma se noi anziché una lista usiamo un insieme, allora la protezione dei duplicati ci viene gratis dalla struttura dati insieme, dalla struttura dati set. Quindi posso usare tranquillamente il metodo add o provando ad aggiungere tutte le parole, se poi questa parola già c'era, già ci fosse stata nel set non succede nulla, se invece è una parola nuova questa viene aggiunta all'insieme. Quindi in qualche modo mi viene gratis l'eliminazione dei duplicati. Cosa ci perdo se uso un insieme anziché una lista? D'accordo? A 50 anni è evidente, no? Non devo fare io il controllo, me lo fa la struttura dati stessa e lo fa anche in un modo più efficiente perché l'operazione IN deve andare a visitare tutte le parole della lista per trovare se c'è quella che sto per inserire. Quindi ogni volta si va a leggere tutti i dati e quindi questo potrebbe rallentare sicuramente l'esecuzione del programma. Quindi i vantaggi sono chiari. Gli svantaggi? Ci sono due svantaggi che ci vedo. Uno è ragionando con la lista posso decidere il criterio di inclusione in modo anche più fine. Ad esempio, se io volessi considerare come duplicate anche una parola maiuscola quando c'è già in minuscolo, allora qui potrei modificare con l'istruzione ifra in modo da fare il controllo, un controllo diverso, no? Un controllo che magari converte in maiuscolo prima di fare un item.upper ad esempio se la parola è in minuscolo. Mentre invece con l'insieme l'unico controllo che viene fatto è di uguaglianza, cioè se è esattamente uguale non lo aggiungo, se c'è qualcosa di diverso lo aggiungo, ok? Mentre invece la lista chiaramente me la gestisco a mano. L'altra cosa che perdo, più significativa, è l'ordine degli elementi. Perché in una lista quando vado a rileggere gli elementi me li trovo assolutamente in ordine di inserimento, se ho inserito con append, in un insieme quando li vado a visualizzare invece me li troverò in un ordine rimescolato, in un ordine qualsiasi, arbitrario, dipende da come è implementato il set dentro la libreria Python. Quindi questo può darci fastidio oppure no. In questo esempio dove stiamo stampare un elenco di parole, molto probabilmente questo elenco lo vogliamo stampare in ordine alfabetico e non in ordine di apparizione. Allora in entrambi i casi prenderemo o la lista, voi la lista, voi l'insieme, facciamo un bel sorted e quindi non ce ne frega niente dell'ordine di inserimento. Perché alla fine l'ordine con cui li vogliamo visualizzare sarà comunque alfabetico e non di inserimento. E allora in questo caso il ter dell'ordine di inserimento non mi costa niente, non mi crea problemi. Allora nel nostro esempio come possiamo fare? Proviamo a risolverlo insieme, chiaramente sulle slide ci sono i passaggi di risoluzione ma noi non siamo così pig da andare a leggere le slide. Chiamiamo un programma parole uniche e ipotizziamo appunto di prendere ad esempio la filastrocca di meri a una pecorella e vedere contare quante parole diverse tra di loro ci sono in questo file. Allora noi potremmo chiaramente iniziare leggendo il file, leggendo una riga per volta e ogni riga separa e cerca di estrarre le singole parole di quella riga. Poi il lavoro è chiaramente quello di fare qualche cosa con le parole. Quindi prima di tutto impostiamo dei cicli in cui magari uso per una volta l'istruzione with, non l'abbiamo usata tante volte quindi ci abituiamo ad usare sia with che no, che è il clause. Quindi with open si chiama meri.txt in lettura, encoding in questo caso non serve ma io mi abituo a metterlo, as input file. Quindi apro il file di meri.txt in modalità lettura, leggo una riga per volta con un ciclo for. Questa linea la separo nelle sue parole componenti, questo l'abbiamo fatto tante volte, no? Uguale line.rstrip.split. Line mi dà la liga, l'rstrip mi toglie la capo finale che mi dà fastidio, la split me la spezza nelle sottostringhe separate da spazio. Dico sottostringhe, non dico ancora parole perché a volte ci sono delle virgole come qua, dei punti come qua, delle virgolette come all'inizio eccetera eccetera, quindi non sono ancora parole, sono dei frammenti che vanno ancora ulteriormente ripuliti dai caratteri di punteggiatura e quindi scusate, una per una queste parole vanno poi ripulite dai caratteri di punteggiatura. Quindi ho una lista di frammenti per ciascuni di questi frammenti che qui stiamo facendo due cicli anni dati chiaramente, uno sulle linee del file e l'altro sui frammenti all'interno di una riga, frammenti candidati parole, non lo chiamiamo parola perché siamo ottimisti, ma in realtà dovremo poi pulire questa parola prendendo la parola e togliendo tutti i caratteri che sono virgola, punto e le virgolette, c'è altro? Punto, virgolette, punto interrogativo c'è ancora e dovrebbe bastare. Quindi prendo la parola, il frammento e con la funzione strip, quindi non è né L né R strip, ma strip completa, quindi strippa sia a destra che a sinistra questi caratteri. Cioè funziona, a questo punto ho la parola pulita che posso a questo punto vedere se c'è già o se non c'è ancora e la conto. Se io facessi qua conta uguale a conta più uno avrei il numero totale di parole, però conterei anche ovviamente le parole duplicate. E allora mi costruisco un insieme di parole uniche, un insieme vuoto e una volta che trovo una parola nuova l'ho ripulita, l'aggiungo ad al mio parole uniche punto ad di parola ripulita. Quindi anziché fare lista punto append di parola pulita, la metto in un set, quindi non mi cambia molto, la differenza è che questa add a volte non fa nulla perché la parola c'era già. Allora alla fine di tutto questo ciclo, quindi quando avrò finito tutte le righe del file, potrei andare a vedere quali sono queste parole uniche. E soprattutto la risposta al problema, la risposta al problema è che il numero di parole uniche, uniche è, quant'è? la lunghezza di questo insieme. Quindi questa prima print è una print nostra di conforto per vedere cosa abbiamo fatto, di non aver fatto casino, anzi sicuramente abbiamo fatto casino perché mi sono dimenticato di mettere in maiuscolo o in minuscolo, quindi se ci sono delle parole che differissero solamente per, qui c'è un y con la maiuscola, un end, guarda qua, l'end maiuscolo e l'end minuscolo, ma in questo caso lo sto trattando diverso, mi sono dimenticato di aggiungere, parola pulita, mettiamo tutto lower, con tutto il rispetto per Mary che a questo punto sarà scritta con la mia minuscola, ma fa lo stesso, l'importante è contarla. e vediamo cosa esce fuori. Allora il numero di parole uniche è 57, dice lui, e questa è la lista, vedete che salta fuori in un ordine del tutto casuale e sono tutte le parole diverse che sono finite in questo insieme. Le slide cosa ci dicevano? Che era il 57, set, ci è andata bene. Se volessimo anche stampare in un modo più ordinato, che non semplicemente stampare il set, possiamo tranquillamente iterare sul set, il set è comunque un contenitore, quindi tutte le cose che sappiamo fare con i contenitori, quindi list, string, tuple, funzionano anche sui set. Quindi possiamo iterare sulle parole uniche e stamparle una per volta, ad esempio e ce le stampa, una per riga, non c'è nulla di particolare, una dopo l'altra, nell'ordine che vuole lui. Tra l'altro la cosa interessante, non so se vi ricordate, la prima volta che abbiamo stampato la prima parola era it, se non sbaglio, o if. Adesso è day. Cioè l'ordine con cui gli elementi devono finire un insieme non è neppure lo stesso se eseguo lo stesso programma più volte. Semplicemente non ci possiamo dipendere da quell'ordine. Le parole sono sempre le stesse, ma se io facessi il nuovo run, vengono fuori un ordine ancora diverso, ma possiamo stare fino a domani. Allora, è chiaro che per un programma stampare le parole in un ordine casuale non è tanto facile per l'utente leggere, per verificare se una parola c'è oppure no. Avrebbe più senso magari stamparle in ordine alfabetico. Allora a questo punto posso usare la funzione sorted. La funzione sorted cosa fa? Prende l'insieme, lo converte in una lista e ordina la lista, perché non ha senso dire ordina l'insieme, l'insieme non può essere ordinato per definizione. Quindi la funzione sorted non mi restituisce un insieme ordinato, non mi restituisce una lista ordinata. E poi la stampo, a questo punto sono passato una lista, mi stampo la lista che contiene gli stessi elementi che prima conteneva l'insieme e me li stampa in ordine alfabetico come mi potevo aspettare. Quindi molto spesso quando devo iterare su un insieme vado a iterare sulla lista ordinata oppure sull'insieme stesso se non mi interessa l'ordine, se voglio solo trovare se c'è un elemento, se ha certe proprietà, non mi interessa l'ordine con cui vado a analizzare gli elementi. Però ricordiamoci solo, questo esempio è che ogni volta l'ordine salta fuori diverso. Ciò che non posso fare è accedere gli elementi per ordine. Da finora, a parte il fatto che ho usato add anziché append, non è molto diverso che usare una lista. Però se io provassi ad accedere agli elementi dell'insieme per indice, mi accordo che non si può. Io ho fatto un for sugli insieme delle parole uniche e ha funzionato benissimo. Però se cercassi di usare un for sul range degli indici, allora parole uniche è un insieme, l'end di parole uniche è perfettamente valido, mi dice quanti elementi contiene, 57. Il range di 57 mi dà i numeri da 0 a 56, quindi fin qua questa riga qua non ha problemi. quando io però cercassi di stampare l'iesimo elemento di questo insieme, il primo, il secondo e il terzo, allora mi accorgo che Python non me lo lascia fare. Mi dice che l'oggetto di tipo set non è subscriptable, non è possibile indicizzarlo. Lo sapevamo già, però abbiamo avuto la conferma. Quindi posso iterare sull'elemento direttamente con un for, ma non posso andare a scegliere quale elemento voglio. Dimmi. Si? No. Ho creato una lista nuova che contiene gli stessi elementi dell'insieme e questa lista l'ho messa in ordine, ma l'insieme è rimasto disordinato. Quindi la funzione sorted non tocca parole uniche, non tocca il suo argomento, crea una lista nuova i cui elementi del risultato sono ordinati. E a questo punto itero questo for, itero su una lista, è come se fosse una normalissima lista. Prego. È una normalissima lista, semplicemente la creiamo, ci iteriamo sopra e la buttiamo via. È come se io facessi lista temporanea, uguale, di fatto avviene questo. Costruisco una lista con le parole uniche, questa lista la ordino temporanea e poi itero su questa lista. Ok? L'insieme non l'ho toccato. In questo caso, quando è finita questa iterazione, questa lista, qui gli ho dato un nome, quindi la potrei riusare. Qui non ha nessun nome, quindi viene automaticamente dimenticata. Noi sappiamo, qui ho scritto lista tempo, quale sorta di lista tempo, noi sappiamo che se è una lista è più veloce scrivere punto sort. Ok? Per ordinare la lista stessa. La differenza tra queste due scritture, allora l'effetto è lo stesso, che ho preso una lista che non era ordinata e alla fine ottengo una lista ordinata. La differenza è che la seconda forma ordina gli elementi all'interno della stessa lista. Quindi è come se mantenessi le parentesi quadre e riordino gli elementi al suo interno. Mentre nella prima forma prendo questa lista, ne creo una nuova, ci copio dentro gli elementi ordinati e ho come risultato una lista nuova, diversa. Per questo la funzione sorted funziona anche con strutture dati che non sono liste, perché tanto li prende e ne crea una lista nuova e poi ci mette dentro gli elementi come gli piacciono. Se io provassi a fare parole uniche punto sort, non funzionerebbe chiaramente perché essendo un insieme non ha il metodo sort. Il metodo sort ordina l'oggetto al suo interno. Un set al suo interno non può essere ordinato, quindi anche qua troveremo, mi dirà che il metodo sort, l'oggetto di tipo set non ha nessun attributo che si chiami sort, non ha nessun metodo che si chiama sort. C'erano altre domande? Una lì, forse lì, forse non più, dimmi. Certo, certo. Questa è la forma breve di fare while read line. Sì, sì, sì. Il mio istituzione, ogni line, una stringa che contiene l'intera riga, compreso il bar n. Allora, se avessimo nell'insieme parole e numeri, allora solo numeri non è un problema. Il problema è, allora, per l'insieme non è un problema, ok? L'oggetto set può benissimo avere al suo interno string e numeri mescolati. Beh, quando faccio sort, no. Quando faccio sort, devo ordinare solamente insieme di stringhe o solamente insieme di numeri. Perché? Immaginate la funzione sort deve fare il confronto tra i vari elementi, se il primo è maggiore o il secondo, eccetera. Allora, l'operatore di confronto ha senso solamente tra oggetti dello stesso tipo. Quindi se l'insieme contiene solo stringhe, lo converto in una lista di stringhe e ordino una lista di stringhe. Se l'insieme contiene solo numeri e quindi lo ordinerò in modo alfabetico. Se l'insieme contiene solo numeri che siano interi o reali mescolati, non importa, creerò una lista di numeri e ordinerò la lista di numeri e quindi mi verrà ordinato in modo crescente, secondo la retta di numeri reali. Se l'insieme contiene un po' di numeri, un po' di stringhe, ma anche un po' di tuple, perché no? Perché nell'insieme posso mettere anche le tuple, allora il sort non si può fare. Mi darebbe un errore il metodo sorted, la funzione sorted. Tu ordini sempre in modo crescente, dopodiché ogni tipo di oggetto ha una sua nozione di che cosa vuol dire essere crescente. Quindi le stringhe si basa tutto sul significato del minore, ok? Allora, tra due stringhe quella è minore, quella che nel codice ASCI barra Unicode viene prima, quindi l'A viene prima della B, la Z maiuscola viene prima della A minuscola e quindi Z maiuscolo è prima di ABC minuscolo, ad esempio, perché quello è il codice ASCI e quello è il suo criterio che noi per semplicità chiamiamo alfabetico, in realtà dovremmo chiamare lessicografico perché non corrisponde esattamente con l'ordine alfabetico dei dizionari. Se sono numeri, l'operatore minore confronta i numeri secondo il modo alfabetico, però ad esempio un insieme potrebbe essere un insieme o una lista, a questo punto quando parliamo di ordinamento in realtà siamo nel dominio delle liste, potrebbe contenere delle tuple, una lista di tuple. Allora come avviene il confronto tra le tuple? Allora l'operatore minore delle due tuple esiste, non si può fare e lui andrà a confrontare i primi due elementi, se i primi due elementi sono confrontabili, quindi sono due numeri ad esempio vince chi è il più piccolo, se i primi due elementi sono uguali va a confrontare il secondo elemento. Quindi adesso poi non andiamo a fare queste cose qui, ma in questo caso però ad esempio le tuple devono avere la stessa lunghezza altrimenti non sono confrontabili e così via. Quindi l'importante è che gli oggetti all'interno della struttura che stiamo ordinando devono essere tutti dello stesso tipo e questo deve essere un tipo ordinabile, i cui elementi sono confrontabili. Se sono elementi di tipi diversi molto probabilmente non sono confrontabili e quindi il sort non si può fare, ma di fatto non avrebbe neanche senso. Ok, dimmi. Non facciamolo. Eh, non facciamolo. Allora la domanda è cosa capita se faccio un for in un insieme la cui lunghezza viene modificata? E che vuol dire? Sto facendo un for su una lista e dentro il for aggiungo elementi o tolgo elementi da questa lista, ok? Da questa domanda. Non fatelo, perché l'avevamo visto in una lezione precedente crea dei problemi, perché quando io faccio il... Fatemelo fare a questo punto in un altro esempio, ok? Non c'entra tanto con questo, ma se io avessi una lista di numeri, ok? 1, 3, 7, 100, 5 e volessi per esempio cancellare tutti i numeri troppo grandi, no? Verrebbe da dire for in range lang numeri, if numeri di, non so, maggiori di 10, numeri punto pop di, no? Cioè, cancello, controllo la lista e cancello i numeri che sono maggiori di 10. Allora questo non fatelo, perché l'istruzione for della riga 3 ha calcolato prima dell'inizio dell'iterazione il range. Quindi questa istruzione lavora con un range di 1, 2, 3, 4, 5, da 0 a 4. E lui l'ha già calcolato. Quindi quando io vado e ogni volta che faccio un'iterazione sul ciclo for viene incrementata la i. Se per un certo punto io cancello questo elemento, che è l'elemento di indice 3, quello che prima era l'elemento di indice 4 prende l'indice 3. Io la i però la incremento lo stesso e quindi i da 3 passa a 4. L'effetto netto è che ho saltato l'elemento che qui si chiama 5. Non l'ho visto, perché mentre io ho incrementato l'indice i, lui si è spostato indietro in una posizione e quindi l'ho saltato. Non lo guarderò mai. E in più nel frattempo i è diventato 4, giustamente, perché all'inizio la lunghezza dei numeri era 4, ma adesso 4 è un indice non più valido. Ok? E quindi gli esultati sono che se cancello degli elementi su una lista che sto iterando, uno, rischio di saltare degli elementi leciti per colpa, semplicemente perché erano vicino a uno che è stato cancellato e due, rischio di andare fuori con gli indici. Ok? Quindi non fatelo mai. Se avete bisogno di aggiungere o togliere degli elementi, o usate un ciclo while. Allora questo si può benissimo fare con un ciclo while. Qual è la differenza? Che la condizione del while viene valutata ogni iterazione. Allora se la lunghezza dei numeri si accorcia, chiaramente questa condizione uscirà prima. E poi nel ciclo while chiaramente l'indice me lo controllo io. E quindi l'indice lo incrementerò solo se non ho cancellato. Perché se cancello un elemento, praticamente il nuovo elemento, quello successivo, già mi entra sotto il naso senza incrementare l'i. Mentre l'i incremento se l'elemento non l'ho cancellato. Allora se mi controllo io il ciclo non ho problemi. Il problema è solamente col ciclo for che lui va avanti con la sua iterazione normalmente e dà per scontato in un certo senso che i dati sotto il naso non gli cambino. Ok? La stessa cosa succede se cercassi di fare degli append o degli insert all'interno di una lista mentre la sto iterando. Quindi o me lo faccio con un ciclo while in cui faccio attenzione a che cosa succede, oppure la cosa più comoda spesso è anziché modificare la stessa lista ne creo un'altra. Anziché dire prendo questa lista e cancello gli elementi maggiori di 10, senti, mi faccio un'altra lista in cui ci siano solamente gli elementi minori di 10. Finito lì. E così ho un ciclo che legge una lista ma ne creo una seconda. Poi se la prima lista non mi serve più non la uso più, ma non mi sono andato a mettere nei casini. Un altro esempio che fruttiamo sicuramente per fare ginnastica con gli insiemi ma anche come vedete per un po' fare il punto sulle varie strutture dati. Controllo ortografico è un po' più, si vede un pochino meglio a cosa servono gli insiemi. Cioè pensiamo di avere un testo, che so, la solita storia di Alice, e vogliamo scoprire se ci sono delle parole che non sono scritte correttamente. Quindi come quando scrivete qualcosa in Word, sotto l'ingrosso dicendo cosa è scritto qua. Questa parola non la conosco. Allora ipotizziamo quindi di avere sia, diciamo così, un documento, un file che mi contenga una storia, io qua, l'avevo già volato l'altra volta, possiamo riusare il racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie. E in più ho un file che si chiama words.txt che è stato estratto da un dizionario inglese, della lingua inglese, che contiene una serie di parole, sono solamente 98.000, non sono tutte, ma sono già un certo numero, ok? Di parole della lingua inglese. Allora, il mio controllo ortografico cosa deve fare? Deve andare a prendere il file di partenza, isolare le singole parole, e per ciascuna di queste parole mi deve dire se è presente o non è presente all'interno del dizionario. Se una parola è presente nel primo file, c'è nell'alice, ma non è presente in words, allora è una parola scritta male, rispetto a quel dizionario lì ovviamente. Ok? Allora questo lo potrei fare così come l'ho detto a parole. Mi leggo il primo file, mi leggo il secondo file, per ogni parola del primo file vado a ricercare se questa parola è presente nel secondo file. Ok? E nel caso in cui non sia presente stampo un errore. Questo lo faccio ragionando come list, adesso possiamo provare a implementarlo così. Ragionando come insieme, invece, questo problema si semplifica molto. Perché se io costruisco l'insieme delle parole contenute nella storia, esattamente come abbiamo fatto prima, le parole uniche, e l'insieme delle parole contenute nel dizionario, mi basta fare una differenza tra insieme. Se la storia è scritta correttamente senza parole sbagliate, l'insieme delle parole contenute nella storia dovrà essere un sottoinsieme del dizionario. Se non è un sottoinsieme vuol dire che ci sono alcune parole che non appartengono al dizionario e quindi appartengono alla differenza. Quali sono queste parole che non appartengono al dizionario? Le calcolo come differenza insiemistica. un insieme meno l'altro, punto difference. E allora in due righe mi risolvo praticamente il problema. Ok? Proviamo ad affrontarlo. Controllo ortografico. Ok? Allora facciamo prima la parte facile. Ok? Leggiamo tutte le parole del primo file, tutte le parole del secondo file. Allora per leggere le parole del primo file andiamo a riusare un pochino quello che abbiamo fatto prima. Ok? Dove lo copio qua in controllo ortografico. Non lo chiamo più parole uniche ma lo chiamo parole storia. L'apro questa volta Alice perché Mary è un po' corto. Ha poche cose. Faccio tutte queste cose qui. La parole, non la chiamo più parole uniche ma parole storia. Metto in minuscolo. Qui probabilmente ci saranno molte punteggiature diverse. C'è anche l'apice, c'è anche questo apice inverso da mettere. Quindi bisogna fare una pulizia un pochino più accurata perché questo testo è un pochino più complesso. quindi l'apice inverso. L'apice diritto che per mettere dentro una stringa tra singoli apici devo mettere i backslash davanti come sequenza di escape. Poi cosa c'è d'altro? Punti interrogativi ci sono. Il punto e le parentesi, tonde, aperte e chiuse. Punti e virgola. Due punti. Chi offre di più? Esatto. E il trattino chi lo sa? Nel senso che il trattino rompe perché in realtà non è un carattere che è in eccesso all'inizio o alla fine della parola, ma è un carattere che separa due parole. Quindi se trovassi un trattino dovrei, quella che per me finora pensavo che fosse una parola, in realtà sono due parole. Quindi dovrei fare uno split sui trattini e poi fare queste cose qua. Facciamo finta che non ci siano i trattini per il momento? Ovviamente le parole con il trattino se non le eliminiamo verranno segnalate tutte come errore. Ma se poi volete, no? C'hai capito il problema? Questa parola qua se contiene un trattino in realtà non è una parola ma sono più parole. quindi devo avere un altro ciclo, un altro ciclo al suo interno che va a prendere tutti i vari pezzettini delle parole che contengono un trattino e ciascuno di questi lo ripulisce o una vita sola. Ok. Quindi qui vediamo cosa salta fuori. Parole della storia. vedete il trattino già subito qua. Non sappiamo quante sono, sono tante, beh possiamo metterlo così lo togliamo se è all'inizio o alla fine delle parole. Se è a metà, come qui, non ci possiamo fare nulla per il momento. Non ci stiamo facendo nulla per il momento. Ok. Ok. Queste sono, non sappiamo quante sono, lo vediamo un po'. Saranno 2700 parole diverse, quindi chiaramente non andiamo a analizzare a mano. e qui abbiamo letto il primo file. Adesso possiamo leggere un secondo file che questa volta è più semplice perché per fortuna il dizionario abbiamo una parola per riga, senza, non abbiamo bisogno di fare nessuna pulizia. Ok. Quindi in questo caso possiamo avere un secondo insieme parole e dizionario. Ok. E vado a vedere, apro il file, with openwords.txt in lettura, encoding.txt as in file. Posso riusare lo stesso nome input file che ho usato prima perché tanto essendo uscito da questo ciclo with il file precedente è stato chiuso. È come fare in file punto close, uscire dal blocco with. Quindi non ho problemi a riusare lo stesso nome. Anche qua for line in file. Per ciascuna riga, a questo punto non devo più fare nessuno split perché ogni riga contiene una parola sola. Quindi aggiungo nella parola il dizionario direttamente la parola, la line che è una singola parola, attenzione che però devo togliere il barrenne finale, che nella line è compreso e magari la converto in minuscolo perché altrimenti non corrisponde alle parole della storia. E quindi mi accorgerò che nel dizionario ci saranno molte più parole, le 96.800 che abbiamo visto prima, duplicati non ce ne sono per definizione. Allora, la storia di Alice contiene delle parole non corrette? Verifichiamo se la storia di Alice, parola storia, è un sotto insieme delle parole del dizionario. Se è così, se le parole della storia fossero un sotto insieme delle parole del dizionario, vuol dire che non c'è nessuna parola sbagliata. Se non è così, quindi ci metto un note davanti, allora dirò che ci sono parole errate. Quali sono queste parole sono quelle dell'insieme Alice meno l'insieme storia meno l'insieme dizionario. Quindi parole errate uguale parole storia punto difference di parole dizionario. La difference è una degli operatori che abbiamo visto brevemente ma su una tabellina riassuntiva che c'era qua in fondo, il 90% di ciò che ci serve sugli insiemi è qua, le varie operazioni che posso fare tra due oggetti tipo set. Una delle quali appunto è la differenza che mi restituisce, si può indicare col metodo difference oppure usando direttamente l'operatore meno, però qua è un pochino più leggibile, un pochino più visibile ciò che stiamo facendo, e mi calcola un insieme nuovo costituito da tutti gli elementi di x con 1 che non sono in x con 2. e quindi a questo punto possiamo stampare ad esempio sorted di parole errate. E le parole errate sono queste qui, ecco qui l'ho fatto un fretto, ho scritto un sorted di parole errate, allora, le parole errate insieme, le ho messe in ordine alfabetico, infatti vedete che mi ha stampato una lista, scrivendo sorted l'ho automaticamente convertito in lista, ma mi contiene anche cose che parole non sono e invece alcune cose che effettivamente sono degli spelling afterwards, mi sembra giusto ma probabilmente nel dizionario non c'è. e poi tutte le parole con i trattini che abbiamo detto che nella prossima vita center è la tradizione in inglese britannico, probabilmente il dizionario è in inglese americano dove c'è scritto center scambiando la e e la r e quindi non la trovate e così via. Quindi qui c'è molto ancora rumore, soprattutto lo vediamo dalle parole che contengono dei trattini, che se vogliamo possiamo, potremmo, dovremmo andare a considerare qui a questo livello della lettura del primo file. Noi abbiamo risolto, però al di là della lettura del file, che è sempre erogiosa, il concetto di controllo ortografico alla fine l'abbiamo risolto con queste due istruzioni, sotto insieme, differenza eccetera. Questo è un po' uno stimolo a farci pensare lavorando con strutture dati diciamo così più complesse, più potenti. Io avrei anche potuto fare, poi ti rispondo, anzi ti faccio la domanda prima di risponderti, una cosa del tipo prendo tutte le parole 1 nelle parole della storia, poi vado a vedere se questa parola è presente not in parole del dizionario. Cosa ho fatto? Not parola 1 in parole del dizionario. Se questa parola non c'è, allora parole errate. La inizializzo come lista vuota e allora aggiungo all'elenco delle parole errate append di parola 1. Cioè mi sto facendo la differenza a mano, prendo una per una le parole della storia, per ciascuna parola vado a vedere in tutto il dizionario se c'è o se non c'è, parola in dizionario, se non c'è me la salvo da qualche parte. Ecco, tutte queste cose qui la posso fare, ma sono semplicemente un modo lungo di fare la differenza tra insieme. Altra osservazione, l'operatore in applicato a una lista ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista, perché chiaramente per sapere se la parola c'è nel dizionario deve andare a vedere ovunque. Applicato a un insieme invece ha un tempo di esecuzione istantaneo, proprio perché gli insiemi internamente sono implementati in modo da ottimizzare proprio l'operazione chiave che è quella di dire l'elemento c'è oppure non c'è. Quindi in questo caso parola di dizionario l'abbiamo costruito come insieme e siamo stati bravi. Se l'avessimo costruito come lista, e quindi parola di dizionario anziché come set l'avessimo costruito come lista, e quindi qua anziché add avessimo adesso append, non ci saremmo accorti di nulla, avrebbe funzionato lo stesso, ma sarebbe stato decisamente più lento, soprattutto su una lista che comincia ad avere 90.000 elementi, magari i tempi di esecuzione cominciano a sentirsi. Ok? Quindi prima di, e questo lo dico soprattutto per chi arriva, conosce già linguaggi di programmazione più di basso livello, dove siamo abituati a lavorare un elemento per volta. In Python per fortuna ci sono delle operazioni che lavorano direttamente sulle strutture dati e quindi ci evitano di fare operazioni più di basso livello di questo tipo. Ok, la domanda che avevi? Ma siccome c'era la parentesi quadra dentro la stringa, lo schermo? Sì. Se andrà una lista dentro una lista di nostra? No, no, ah no, questa è dentro una stringa. Ok, non è una lista di liste, ma è una lista di stringhe, e poi capita che una di queste stringhe abbia una parentesi quadra, a chi è venuto in mente di mettere una parentesi quadra nella storia? Ah, infatti è una nota, una nota dell'editore che diceva, ah, le edizioni più recenti contenevano un'altra parte di una storia diversa, una variante diversa della storia. vabbè. Ok? Ok. Facciamo ancora il passo più avanti di conoscere quest'ultima struttura dati, dizionari, che costruisce un passo avanti rispetto ancora a quello degli insiemi. Anche qua, di nuovo, ho provato a scrivere in questo slide una definizione di una riga, che come sempre è incomprensibile, sono dei contenitori mutabili, contenitori, vabbè, sono una struttura dati che contiene altri dati. Mutabili, posso aggiungere e togliere elementi, quello che posso fare con tutte le strutture tranne le tuple, e le stringhe, le stringhe sono dati semplici. Però non contengono valori singoli, ma contengono delle coppie di valori, coppie chiave valore, utilizzabili in due modi diversi, nel senso che la struttura dati è una sola, ha delle regole di funzionamento. Ok, adesso ci impariamo, ma la possiamo alla fine usare in due modi diversi, e cercheremo di vedere esempi dell'un modo e dell'altro modo in cui usarlo. Allora, un dizionario, in alcuni altri linguaggi viene chiamato mappo, viene chiamato array associativo, forse mappa è più facile da cogliere come significato, è una struttura dati che mappa un insieme di valori su un altro insieme di valori. Per evitare di ripetere valori, diciamo, mappa un insieme di chiavi, che sono delle variabili, dei valori di variabile, su un insieme di valori. Quindi una mappa chiave valore. Queste chiavi sono numeri, sono stringhe, sono variabili normali, valori normali del linguaggio, e a ciascuno di questi viene assegnato, associato un valore. In questo verso, dalla chiave verso valore, la struttura dati è pensata per facilitare il passaggio da una chiave a un valore. Mentre invece, non è impossibile, ma è più complicato il passaggio inverso dal valore alla chiave. Quindi le chiavi tipicamente sono dei valori che tendono ad essere univoci. infatti parliamo dell'insieme delle chiavi. Facciamo un esempio concreto. I studenti hanno una matricola, oppure le persone in generale hanno un codice fiscale. Il codice fiscale è una chiave, è un valore univoco, unico per ciascuno di noi, al quale poi possiamo associare altre informazioni. Allora, posso pensare di avere una struttura dati di tante persone, queste persone sono identificate ciascuno da una chiave, che può essere il codice fiscale, e avere tante informazioni associate ad esse, quindi nome, cognome, data di nascita, eccetera, eccetera, dei valori, può anche essere solo il nome. Quindi sono quei casi in cui ho un valore unico che mi identifica un elemento a cui però voglio associare altre informazioni. Le chiavi non possono essere ripetute, le chiavi sono uniche e ad ogni chiave può essere associato un solo valore. Poi questo valore a sua volta può essere una lista e quindi in realtà c'è tanta roba dentro, ma è uno solo. Mentre invece lo stesso valore, guardate qua il blu, può essere associato a più chiavi diverse. Questo non è un vincolo. I valori possono essere diversi, possono essere ripetuti e lo stesso valore può essere associato anche a più di una chiave. Nel caso dei codici fiscali non posso dire che due codici fiscali diversi mappano sulla stessa persona, perché in quel caso non ha senso, però se questa è una mappa che mi assume i colori preferiti, allora è lecito che sia Eve che Juliet abbiano come colore preferito il blu. Ma il colore preferito è sempre solo uno. Come lo costruisco un dizionario? Lo costruisco con una sintasi che è un pochino più complicata rispetto a quella di un insieme, nel senso che si usano anche qua le parentesi graffe di un elenco separato da virgole, ma ciascun dato in realtà è doppio, ciascun item, ciascun elemento del dizionario è doppio, perché è una componente chiave e una componente valore separate dal simbolo di due punti. Ok, qui sto creando un dizionario in cui ho dentro un elemento con chiave Romeo, stringa, e valore green stringa, poi un altro elemento chiave Adam, valore purple e così via. Quindi questo dizionario, questo dizionario contiene quattro elementi perché contiene quattro chiavi distinte. Ok, se volessimo andarcelo a vedere sul nostro Python Tutor, così ci aiuta ad avere una visualizzazione di quello che stiamo facendo. Prendiamo questo testo qua, lo incolliamo lì e vediamo cosa succede. Ah, si arrabbia perché facendo copia e incolla da PowerPoint viene fuori schifezza, ma noi lo sistemiamo. Se ci riusciamo, prima di stanotte. Io sto andando a capo un po' così, ma in realtà può essere benissimo scritto tutto su una riga. Cioè nel momento in cui apro la parentesi graffa, lui si aspetta i dati del dizionario che siano su una riga, che siano su più righe, fino a quando non trovo la graffa chiusa. Questo vale per tutte le parentesi. E cosa ho fatto? Ah no, scemo, non ho... D uguale. Non ho messo nessuna parte. Ok? Allora, Python Tutor me lo visualizza così un dizionario, come una sorta di tabellina in cui da una parte ho le chiavi e dall'altra ho i valori. E aspetta, dove era? Se volessimo avere la visualizzazione reale, in realtà il dizionario, l'oggetto dizionario contiene quella cosa lì sotto con l'assata, e poi sia le chiavi che i valori a loro volta sono oggetti che stanno da un'altra parte. Già come la lista, la lista... Prima erano scritti dentro la casolina del dizionario i valori, in realtà sappiamo che il modello dei dati in Python non funziona così. Tutti i valori sono sempre separati e poi anche in una lista, gli elementi della lista non stanno dentro la lista, ma dentro la lista si sa solo il riferimento al valore vero e proprio. E quindi qua si vede che blu, si vede per modo di dire, nel senso che queste fette sono disegnate in modo un po' sfigato, ma che sia il terzo valore che il quarto valore puntano alla stessa stringa blu, che è condivisa quindi una volta sola, come nel disegno delle slide. per carità si vedeva meglio, ma... Andiamo avanti. Le chiavi... Dimmi. Le? 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 La cosa che abbiamo detto prima è che le chiavi devono essere univoche. Allora, le chiavi di un dizionario devono seguire le stesse regole degli insiemi. Perché l'insieme è, diciamo così, la struttura dati che rappresenta un insieme univoche di valori. Quindi, come chiavi del dizionario, tipicamente posso mettere o stringhe o numeri, anche tuple, per carità. Tutti gli elementi che posso mettere un insieme. Ricordate, all'interno di un insieme avevamo questa slide che ci diceva, puoi mettere elementi che siano confrontabili e immutabili. Quindi c'è una limitazione sul tipo di dato che posso usare come chiave. Non c'è nessuna limitazione sul tipo di dato che posso usare come valore. Quindi il valore associato a una entry, a un item del dizionario può essere un numero, può essere una stringa, può essere una lista, può essere un insieme, può essere un altro dizionario, può essere ciò che voglio. Non c'è nessuna limitazione sui valori. Perché i valori, in realtà, il dizionario non se ne fa nulla. Li tiene lì. E quando mi serve, lo posso andare a riprendere. Mentre invece le chiavi, no. Normalmente usiamo stringhe o numeri interi. Ecco, qui c'è scritto numeri in generale, ma io non userei mai un numero float come chiave, perché vi ricordate che la ritmetica float è approssimata e quindi invece la chiave deve essere, si basa, stiamo così, sul confronto esatto. Dizionari vuoti si scrivono, si possono creare, quando creo un dizionario vuoto e poi aggiungo gli elementi, semplicemente con una coppia di parentesi graffe. Questo è il motivo per cui non potevamo usare le parentesi graffe per creare un insieme vuoto. Ma dobbiamo scrivere 7, tra parentesi. Perché la sintassi aperta e chiusa graffa viene già usata dai dizionari. Ok? Oppure, vabbè, un dizionario con qualcosa dentro, non c'è problema. Vabbè, questo l'abbiamo già visto come si fa a creare un dizionario. Si può creare un dizionario vuoto, dicevamo, sia con le parentesi graffe che con la funzione dict, così come set tra parentesi di tonne e crea un set vuoto, come list, parentesi di tonne e crea una lista vuota, oppure con le parentesi graffe o quadre per il dizionario per le liste. Quindi crea uno vuoto. Ma la funzione dict può essere usata anche per copiare un dizionario in un altro. Ok? Qui già, come ricordiamo, già sulle liste potevo fare lista1 uguale lista2 e in quel caso creavo un alias, un sinonimo. Oppure facevo lista1 uguale list di lista2 e ne creavo una copia su cui potevo lavorare separatamente. Anche sui dizionari funziona esattamente nello stesso modo. Posso creare un alias oppure un duplicato vero e proprio con la funzione dict che crea un nuovo dizionario come copia di uno esistente. Mentre invece il semplice uguale mi crea un alias. Quindi nulla di nuovo, il meccanismo di funzionamento è lo stesso che già conoscevamo sulle liste e sulle tuple. E anche sugli insiemi. È la regola generale. Ok, una volta che ho creato un dizionario come lo posso usare? Allora, è una struttura dati, dicevamo, mutabile, quindi ci posso aggiungere, eliminare elementi oppure ovviamente andarli a leggere, a ricercare. E lo faccio usando le parentesi quadre, le stesse parentesi quadre che userei per accedere agli elementi di una lista. Con la differenza che qua non ho più un indice numerico che va da 0 alla lunghezza meno 1, ma ho un indice chiave che può essere una stringa, può essere un numero, può essere una tupla, può essere qualunque valore che abbiamo usato come chiave dell'elemento. e quindi in qualche modo stiamo indicizzando, usando come indice, poi non usiamo la parola indice, usiamo la parola chiave, come indice usiamo una stringa questa volta anziché un intero. Questo è ciò che dà ai dizionari il nome di array associativo, perché è come fosse un array, come fosse una lista, ma non è una lista ordinata, metto il primo, il secondo, il terzo e il quarto, ma è una lista in cui ho delle associazioni tra un valore e un altro. e i valori di partenza non necessariamente sono dei numeri. Ma vabbè, questo è solamente etimologia. Quindi noi possiamo accedere a un dizionario mettendo tra parentesi il nome di una chiave e che cosa mi restituisce? Mi restituisce il valore, il campo valore. Quindi nel caso, prendiamo il Python Tutor e rimettiamolo magari in una forma più leggibile. Io, se io stampassi di, mi stampa il dizionario in questo modo, compatto. Nella sua sintassi, aperta graffa, chiave due punti valore, chiave due punti valore, chiave due punti valore, eccetera, eccetera. Posso andare anche a estrarre un singolo elemento, quindi di se nel dizionario tra parentesi metto il nome di una chiave e in questo caso mi stampa ovviamente blu, che è la chiave, il valore, scusate, il valore associato alla chiave if. Quando accedo a una lista, lista di tre mi dà il quarto elemento. Dizionario div mi dà live elemento. Dimmi. Se una chiave è associata a una lista, siccome il valore della chiave anziché avere una stringa avesse una lista, mi restituisce una lista. E alla lista posso accedere come voglia. Se io cambiassi esempio e dicessi che questo dizionario mi ricorda, ricordate gli esempi che facciamo all'inizio del corso, i voti di esame, no? Quindi abbiamo lo studente A, chiamiamoli Antonio, che ha come valore i voti degli esami, qua ho preso 29 di chimica, e poi invece abbiamo Bruno, uno con la B, che invece ha dei voti diversi, ad esempio che nessuno si chiama Bruno qua, 19, 20, 21, 22, e non è detto che debbano essere la stessa lunghezza. Sto creando un dizionario con chiavi stringa, ok? E valori lista, quindi i valori vengono messi, come tutte le liste, fuori. Posso andare a estrarre i singoli voti, e quindi posso avere i voti di Antonio, prendendo, il dizionario non lo chiamiamo D, lo chiamiamo voti, dai così si capisce cosa stiamo facendo, i voti di Antonio sono voti di, virgolette Antonio, e quindi la variabile voti, via voti di Antonio, punta alla stessa lista, qui è un alias, quindi attenzione che quella lista la posso leggere, la posso anche modificare, se la modifico viene modificata dentro il dizionario. E come lista la posso chiaramente andare a leggere, no? Il primo voto non è altro che via di U, via di 0, i voti di Antonio, 0. Certo, certo, adesso ci sto arrivando. Ok? Quindi, ho estratto una lista, e essendo una lista, fate ciò che voglio, il primo voto. Ma, ovviamente, nessuno mi obbliga a fare tutti i passaggi, il primo voto, chiamiamolo primo 2, per confronto, lo posso prendere prendendo la tabella di voti, prendendo Antonio. Allora, leggiamolo da sinistra verso destra. Voti è un dizionario. Antonio è una chiave, voti di Antonio è il valore presente nel dizionario associato a quella chiave. Questo valore cos'è? Una lista. E se è una lista, posso prendere il primo elemento. Le parentesi quadre hanno significato molto diverso in questa riga. La prima coppia di parentesi quadre è un accesso a un dizionario, usando un campo chiave. Le seconde parentesi quadre è un accesso a una lista usando l'indice numerico. Perché? Ma perché queste prime parentesi quadre si applicano a voti che è un dizionario. Queste seconde parentesi quadre, pensate che ci fosse, è come se fosse una parentesi tonda qua, no? Voti di Antonio cos'è? È una lista. Allora, su una lista posso fare tutto ciò che posso fare sulle liste. Posso fare sorte, posso prendere un elemento, posso stare una slice. È una lista, come tutte le altre. Che poi sia una lista che è parcheggiata dentro un dizionario, è un dettaglio. Ok? Quindi, ma adesso, diciamo così, pratichiamoci sulla meccanica dei dizionari e poi chiaramente useremo quella, diciamo, l'ultimo argomento del corso che viene chiamato, nelle strutture di dati complesse, lavorare proprio su queste cose. come combino e annido tra di loro queste strutture di dati per rappresentare ciò che mi serve. Quindi, accedere ad un elemento è semplicemente indicizzare il dizionario usando, ho usato ovviamente una costante, tra virgolette, ma poter usare la virgolette in una variabile, no? La chiave deve essere una chiave esistente. Quindi, se io cerco di estrarre i voti di Carlo, vc, e purtroppo i voti di Carlo non ci sono nel dizionario, avrò un errore di tipo key error. Un'eccezione di tipo key error. Così come, cercavamo di accedere ad un elemento non esistente in una lista, ottenevamo index error, perché quello era un indice, e qui otterrò un key error, perché sto usando una chiave non valida. Allora, come faccio a prevenirlo? Beh, prima di accedere ad un elemento sarebbe bene essere sicuro che una chiave ci sia. Allora, anche qua posso usare l'operatore in. Ricordiamo che le chiavi sono un insieme, una sorta di insieme. Quindi, if John in contacts, si sta chiedendo, John, contacts è un dizionario, fa parte delle chiavi di questo dizionario? In non va a vedere l'intero dizionario, va a vedere solamente le chiavi, perché i valori possono essere qualunque cosa e quindi non avrebbe neanche senso chiedersi in, perché non ha detto che siano convertibili insieme. Allora, mi chiedo, se John è nel dizionario come chiave, allora posso legittimamente, senza avere nessuna eccezione, accedere con quella chiave al dizionario. Altrimenti dirò, guarda, questo John non ce l'ho, scusami. Allora, su una lista è più facile, perché una volta che sono a lunghezza so esattamente quali sono gli indici validi e quali no, e quindi eviterò di usare un indice che non è valido. Su un dizionario, sapere la lunghezza del dizionario non dice nulla su quali sono i valori leciti delle chiavi e quindi devo fare controllo, perché altrimenti, se cercassi di accedere con una chiave non esistente, avrei un'eccezione. quindi molto spesso quando devo accedere a una posizione o quella posizione già, sono sicuro che ci sia, perché l'ho appena messa dentro magari, o perché sto iterando sul dizionario stesso, oppure se è un dato che ho letto da tastiera o altro, vado a controllare. altrimenti ci prendiamo un bel key error. c'è una scorciatoia per evitare di avere il key error, che è un metodo che si chiama get. il metodo get funziona come l'accesso a una chiave, quindi normalmente se io faccio il dizionario punto get di Tony, Carlo, quello che è, mi ricerca l'elemento che ha quella chiave e mi restituisce il valore associato ad esso. ma nel caso in cui la chiave non esista, anziché generare un errore, mi restituisce un valore di default che specifico io come secondo argomento. Quindi ad esempio nel mio caso di Carlo, in cui voglio prendere i voti di Carlo, ma non sono sicuro che Carlo ci sia, potrei usare il metodo get, dando come secondo argomento, che ne so, una lista vuota. Visto che non ha voti, come valore di default in questo caso ti darò una empty list. Ma non ho generato nessuna eccezione, quindi ti dico, se la chiave non c'è, dammi un valore sensato che rappresenti l'assenza dell'elemento. Ovviamente devo specificare io qual è quel valore, se è una stringa vuota, se è uno zero, se è una lista vuota, se è un non, se è un messaggio di errore. Allora questo è assolutamente equivalente a controllare prima. Io potrei dire se è nei contatti lo vado a prendere, altrimenti metto un valore di default, questo piccolo costrutto lo posso condensare usando il metodo get. Quindi, parentesi quadre, se accedo essendo sicuro che la chiave ci sia. Se non sono sicuro che la chiave ci sia, conviene usare get, in cui posso decidere che valore usare in assenza della chiave. Oppure faccio questo if e non ci penso più. Questo per la lettura. Come faccio invece a modificare un dizionario? Allora, modificare un dizionario può voler dire due cose. Tre. Aggiungere un elemento nuovo, tipo l'append delle liste o tipo l'add degli insiemi. eliminare un elemento esistente, tipo il pop delle liste, or remove, oppure modificare un valore esistente. Allora, l'aggiunta e la modifica si fanno nello stesso modo. Qui non c'è un append qua come c'era sulle liste. Nella lista per aggiungere un nuovo elemento dovevo o aggiungerlo al fondo con append o aggiungerlo da qualche parte con insert. E la lista, puff, cresceva. Invece qua, per aggiungere un elemento al dizionario basta semplicemente che io assegni un nuovo valore a una chiave che non esiste ancora. Quindi se noi finalmente volessimo aggiungere anche i voti di Carlo, e questo qua per un 25 per dire. E basta. Qua sotto. Ho creato questi voti. Poi aggiungo altri voti. Adesso arriva Carlo e mi dice senti io ho preso un 25, il mio primo esame. Mi aggiungi alla tabella. Ok. Vuoti di Carlo. Virgolette Carlo. Chiuse virgolette. Uguale. In questo caso sono liste, quindi una lista di un elemento 25. Allora, quando eseguo questa istruzione, guardate il dizionario che c'è qui. Prima conteneva due elementi, poi ho assegnato un nuovo valore a un indice chiave, a una chiave che non esisteva ancora. E allora mi ha creato la nuova chiave con associato il suo valore. Ok. Quindi quando assegno un valore a una posizione di un dizionario usando una chiave che non esiste ancora, non è un errore, ma la chiave viene creata. In una lista, se io provassi a assegnare un valore a una posizione in cui l'indice non esiste, mi da index error, no? Quindi qua questo comportamento è diverso. e se invece, quindi, per raggiungere un valore, semplicemente aggiungo il valore che voglio usando una chiave che non esiste ancora. Questa stessa identica sintassi può essere anche usata per modificare un valore se uso una chiave che in realtà esiste già. Rimpiazza quel valore. Questo, diciamo, è più normale, nel senso che così anche quando ho una lista, lista di 3 uguale 7, mi va a mettere il numero 7 nella posizione 4 andando a sovrascrivere ciò che c'era prima. Qua uguale. e quindi, ad esempio, io volessi, ho sbagliato a dire i voti di Bruno, li voglio modificare, potrò assegnargli una nuova lista di voti più belli, no? 3,27 questa volta. Allora, in questo caso, i voti di Bruno sono arrivato lì, no? Alla riga 15, prima di eseguirla, erano 30, 30, 30, 20, no, dove? 19, 20, 21. Scusate, queste frecce si un pochino si... Ecco, 19, 20, 21. Se eseguo questa istruzione, sto sostituendo il valore che attualmente era associato alla chiave Bruno con un nuovo valore che è questo. Infatti adesso la freccia Bruno punta a questa nuova lista. In questo caso ho completamente sostituito un valore all'interno del dizionario con un valore nuovo. quindi la sintassi per durare il dizionario è molto snella perché sia in lettura che in scrittura, sia per estrarre i valori, sia per aggiungerli, sia per modificarli, uso sempre la stessa sintassi. Tra la parentesi quadre, la chiave. E lui capisce cosa voglio fare essenzialmente. Quindi per creare la tipica operazione che facciamo quando leggo qualche cosa da un file o da tastiera, inizializzo una struttura dati vuota e poi aggiungo via via gli elementi. Allora se li aggiungevo in una lista facevo una serie di append, se li aggiungo in un insieme faccio una serie di add, se li aggiungo in un dizionario faccio una serie di assegnazioni semplicemente usando le chiavi che via via mi arrivano. Questo l'ho messo come quattro istruzioni così ma tipicamente sarà in un ciclo in cui sia la chiave che il valore vengono letti e estratti da un file. Ci rimane la cancellazione che usa il metodo pop che è lo stesso metodo pop delle liste dove ovviamente come argomento del pop non ci sta l'indice ma ci sta la chiave. Quindi per eliminare un elemento che io voglio fare pop di Fred, ho un dizionario in cui Fred è una chiave, facendo il pop quell'elemento viene cancellato, quindi il dizionario va a modificare direttamente il dizionario e elimina quella chiave e ovviamente il valore associato anche viene perso. Se tolgo la chiave anche il valore viene perso. Il metodo pop per gentilezza restituisce il valore del valore che ha cancellato. Quindi se io facessi a uguale contacts.pop di Fred, la variabile a avrebbe questo valore 38411. Il valore che ho appena perso. Se voglio me lo può restituire. Così come anche la pop delle liste, no? Mi restituisce il valore che è appena cancellato. Cioè mi serve contenere. Vabbè, è scritto qua. Ovviamente poiché pop ha bisogno di una chiave, questa chiave deve esistere, altrimenti avremo in solito key error. Quindi le quattro operazioni di base sugli insiemi sono l'indicizzazione che viene usata per aggiunta, modifica e lettura e la pop usata per la cancellazione. Qui cominciamo a parlare dell'analisi della navigazione all'interno di un dizionario, però è un argomento un pochino più ampio. e allora lo rimandiamo, diciamo, dopo l'intervallo visto che stiamo già sforando di un paio di minuti e l'impazienza comincia a montare. Quindi facciamo la pausa adesso e poi riprendiamo sempre sui dizionari.